In questi giorni in tutto il nord Italia è cominciata la lotta biologica alla cimice asiatica. La lotta biologica viene fatta con la vespa samurai che, a dispetto del nome che è un po' spaventoso, è un insetto minuscolo, innocuo, che si ciliva di polline e di liquidi zuccherini. In laboratorio viene allevato con il miele e che però è il nemico più feroce della cimice asiatica. La cimice asiatica ha creato dei danni devastanti in agricoltura. Si parla di 700 milioni di danni nel 2019, oltre ad aver invaso le case, ha creato disagi a tutti. Liberando questo piccolo insettino che non è dannoso alle persone, non punge, non è dannoso agli animali, ma depone soltanto le sue uova dentro quelle della cimice asiatica e poi da questo uovo non nascerà una cimice ma una vespina minuscola, questo vespa samurai, pensiamo di riuscire a ricreare in tempo abbastanza breve l'equilibrio ecologico. Ma c'è una cosa che va detto, la vespa samurai non è un insetto alieno preso dall'Asia, ma è un insetto che è già arrivato, nello stesso modo con cui è arrivata la cimice asiatica, seguendo i commerci. Quindi noi stiamo soltanto accelerando quello che sarà un normale riequilibrio ambientale per cercare di dare sostegno alle aziende agricole e realizzare in tempo molto più breve quello che sarà il riequilibrio ecologico. I benefici della lotta biologica sono da un lato quello di ridurre il disagio per i cittadini perché avremo meno cimici che entrano nelle case, ma anche ridurre l'impiego di agrofarmaci che in questi ultimi anni sono aumentati moltissimo senza riuscire lo stesso a contenere i danni da cimice asiatica. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione naturale e biologica per ridurre l'input chimico che viene distribuito nell'ambiente. Grazie. 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 Grazie.